Marco Cina Revisore Revisore Allora, io vi parlo di DNA e vi faccio dei disegni. Ho preferito questo che le cose tecnologiche molto avanzate dei miei colleghi. Allora, il DNA è questo, una doppia elica che è all'interno delle vostre cellule, miliardi di cellule e che costituisce la base dell'umanità, c'è tutto là dentro. Tecnologia, etica, medicina, arte, costruzione, guai anche un sacco, malattia, sofferenza, l'uomo, che dobbiamo sempre tentare di rimettere in mezzo a questi salti tecnologici che sono spesso vissuti come assenza di istruzione, assenza di sviluppo, inquinamento, distruzione della presenza dell'uomo, dell'umanità, ma che vorrei mostrarvi anche tutti i lati positivi invece di questa tecnologia che può essere giusto il contrario di quello che pensate. Per farvi capire quello che faccio sono obbligata di spiegarvi, farvi qualche disegno di biologia semplice. A me servono tre cose per mettere a punto questa tecnologia, dei virus, di cui voi conoscete un esempio molto particolare, che è il virus dell'AIDS, che dà una malattia mortale nell'uomo per cui non si conoscono ancora terapie definitive. E poi c'è una cellula che contiene il DNA nel nucleo ed è una cellula malata. Perché questa cellula è malata? Ci sono quattro caratteri che contengono tutte le informazioni di questo libro, solo quattro. A, T, C, G. Basta che una di queste lettere sia stata scritta male e tutto un organismo, un organo, un sistema, non funziona più. E tutto lo sforzo che noi facciamo in medicina per queste malattie geneticamente stabilite è di tentare di retrocorreggere questo errore, come se avessimo una macchina da scrivere che potessimo cancellare questo errore e rimettere il carattere sano. Nel 1990, mi sembra di parlare come le vostre nonne, nel 1944, la prima guerra mondiale, no, i virologhi ci hanno dato delle informazioni importantissime, ci hanno detto cosa c'era dentro questi virus e perché questi virus potevano andare dall'esterno all'interno della cellula e integrarsi nei cromosomi dell'uomo. Questa è la caratteristica principale del virus che produce l'AIDS, l'immunodeficienza umana, milioni di persone affette da questa malattia nel mondo, milioni di persone attese con una prognosi a corto termine molto pericolosa in Africa e in molte altre regioni. Quando abbiamo saputo, quando i virologi ci hanno insegnato come è fatto questo virus, cosa trasporta come informazione, perché è piccolissimo, noi ci siamo detti, noi, non io personalmente, io ho rubato delle idee che venivano da campi diversi e le ho giusto messe insieme per la costruzione di un nuovo trattamento. Ci siamo detti, questi elementi ridotti al minimo, che voi non vedete, che ci infettano, li possiamo demolire biologicamente e farne giusto dei trasportatori, dei treni, come delle navette spaziali. Uno dei primi oratori ha detto come possiamo andare dalla Terra al Marte, a me mi fa solo spavento, ma forse voi avete lo stesso spavento che io di pensare, di avere l'idea di andare su Marte. Vi provo con la stessa paura, l'idea che uso questo come un trasportatore, come un treno, un aereo, una navetta spaziale e li posso mettere dentro tutta l'informazione genetica che voglio, non proprio tutta, ma almeno quella di cui la natura si è sbagliata. E gliele rimetto una copia normale, in modo che questo virus perda, abbia perso tutte le sue capacità di replicazione, di produzione della malattia, di utilizzazione della cellula ai suoi fini e gli do come istruzione di portare un'informazione genetica all'interno della cellula. Quindi quello che faccio è una cosa così a pensarci estremamente semplice. Prendo le cellule dell'individuo, questo è il soggetto malato, non so neanche disegnare meglio di questo il mio massimo. Questo può essere un adulto un bambino malato e prelievo le cellule malate, queste qua, le porto in laboratorio e in laboratorio le metto insieme a questi elementi minimi che sono i virus che hanno perso tutte le loro capacità biologiche, sono utilizzati solo come navette speciali. E questi virus sono capaci, ottenuto delle loro proprietà, solo la loro capacità di andare nel nucleo. E nel nucleo vanno a depositare nei cromosomi, in un posto quasi qualsiasi, l'informazione genetica che manca a queste cellule. Siccome queste sono le cellule del paziente e quindi non sono le cellule di un donatore completamente diverso da lui, io le posso ritrapiantare a questo soggetto e sperare di guarire della sua malattia. Questo è quello che abbiamo fatto alla fine degli anni 90, esattamente il primo ragazzino con questa malattia, è stato curato nel 1999. Allora perché vi ho detto non c'è solo medicina, c'è sofferenza, c'è etica, perché la prima malattia a cui ci siamo attaccati è una malattia mortale, i bambini nascono senza difese immunitarie, tutti qua dentro, sapete cosa sono i globuli bianchi? Queste cellule che passano come specie di esercito a proteggervi da tutti gli agenti, da tutti i microbi che trovano in giro nell'aria che respirate, nelle ferite che avete, nel bacio che vi scambiate con quello malato che vi sta vicino. E questi bambini invece nascono con nessuna cellula, nessun globulo bianco, muoiono nelle prime settimane che seguono la nascita, se non sono curati. E ci siamo detti, se noi li correggiamo subito, appena nati, queste cellule, forse abbiamo una speranza di tirarli fuori da una prognosi impossibile. E quello che abbiamo fatto è, nel 2000, effettivamente, abbiamo potuto rendere noto il fatto che questi bambini condannati a vivere, per il tempo che si può, dentro delle bolle di plastica, delle stanze protette, in aria filtrata, nessuno li può toccare, vedere, baciare, potevano riuscire all'aperto con un sistema immunitario completamente riformato. Ma, vi ho detto prima, la medicina non avanza così, fortunatamente. Ho già avuto la fortuna, e ho ancora la fortuna, di vivere in un periodo che posso chiamare una specie di rivoluzione medica, rispetto alla medicina che mi hanno insegnato tanti anni fa, trent'anni fa, a Padova. Ma, subito, quello che abbiamo scoperto, due di questi bambini, qualche anno dopo, hanno sviluppato una complicazione di questa malattia, perché i virus si erano messi vicino a informazioni genetiche pericolosissime, e hanno prodotto una proliferazione non controllata di queste cellule, sotto forma di una specie di cancro delle cellule di goboli bianchi, che forse ne avete sentito parlare, si chiama leucemia. Ma penso, c'è stato un oratore prima di me che ha detto, i ragazzi, quando sono in questi campi dove imparano a costruire delle macchine, degli utensili dove si servono della loro testa e delle loro mani contemporaneamente, imparano più dai guai che combinano, che dagli oggetti finiti che provocano. E quello che è successo anche a noi, nel 2000 ci siamo fermati, e nello stesso tempo la tecnologia aveva dato nel mondo la conoscenza di tutto il genoma umano, e quindi siamo riusciti a capire in un tempo brevissimo, con l'aiuto della comunità internazionale, dove questi virus erano andati a conficcarsi nelle cellule, perché avevano regolato in modo così catastrofico la vita di queste cellule. E siamo ritornati in laboratorio, abbiamo di nuovo cambiato i virus, abbiamo tolto tutte queste parti che erano più pericolose per la proliferazione, il controllo della vita di un organismo. E siamo ritornati in clinica qualche anno dopo, dopo anni di ricerche nel 2006, e ci siamo attaccati a altre malattie genetiche, a questa, alla prima che è stata un modello per tutta la medicina dell'epoca, perché finalmente avevamo prodotto la prova che potevamo correggere il genoma in modo definitivo. Questi ragazzi hanno oggi 16-15 anni, e sono il gruppo più, diciamo, più vecchio dei bambini trattati per terapia genetica nel mondo, e quando vengono in ambulatorio mi dicono, ma perché devono continuare a venire? Sto bene? lei mi rompe un po' le scatole di farmi venire, e non si rendono neanche conto che dobbiamo continuare a seguire perché non sappiamo cosa succederà domani a queste cellule. Dal 2006 a oggi, con il cambiamento di questi, diciamo, di questi aerei nucleari che arrivano nel cuore delle cellule a riportare un'informazione genetica corretta, abbiamo corretto tre deficit immunitari, una malattia neurodegenerativa del sistema nervoso centrale e una malattia del globulo rosso. Tutti in Italia e soprattutto in questa regione sapete che c'era una malattia che si chiamava la talassemia, una malattia del globulo rosso, bambini anemici che devono essere trasfusi tutti i 30 anni. I flussi migratori, l'immigrazione della gente, i movimenti, i viaggi, gli aerei, hanno fatto che un'altra anemia molto simile a questa, che in Italia si chiama anemia falciforme o drepanocitosi, è diventata la malattia genetica più frequente nel mondo. Milioni di bambini, di uomini e donne affetti da questa malattia nel mondo. L'OMS ne ha dichiarato causa mondiale, perché fra anni non ci saranno più transfusioni, non ci sarà la possibilità di trapiantare tutti questi pazienti. La terapia genetica è attesa come un modo per venire a capo di questi milioni di persone che muoiono costantemente in Africa. La grande maggioranza di questi bambini muore prima di raggiungere il quinto anno di vita, perché non ci sono transfusioni, perché hanno la malaria nello stesso tempo. E quello che mi ha insegnato questo progresso della medicina è una cosa che è molto legata alla tecnologia, un po' come Mr. Wireless. Più la tecnologia diventa complessa, diventa semplice trasportarla e diventa semplice portarla dappertutto. Più diventa personalizzata la medicina e meno, diciamo, una medicina a caso che, fra gli altri effetti, ha quello di sollevare i sintomi di una malattia, più è meno costosa per la società. La terapia genetica oggi è fatta paziente per paziente, quasi che faccio un menu personalizzato per ogni bambino, per ogni adulto che è tratto. Ma domani questa è la terapia che costerà meno alla società, perché la potremo fare in ambulatorio, perché possiamo trasportarla, perché quello che dobbiamo trasportare è molto poco e tecnologicamente trasmissibile e con molta velocità, un po' come il suo wireless, dappertutto nel mondo. Quello che trovo un po' peccato è che andiamo più veloci che i nostri amministratori politici, che i governi, che il pensiero economico, perché il pensiero economico è ristretto, lo vede solo oggi, domani e non vede fra cinque anni, fra dieci, cosa succederà a delle terapie convenzionali, che costo avranno nella società e non riescono a investire più di soldi in questi trattamenti che invece domani costeranno molto poco, avranno, permetteranno un'uguaglianza della distribuzione della sanità a un numero molto più importante di persone, permetterà che noi andiamo con in questa tecnologia che si è insegnata e applicata a della gente che vive migliaia di chilometri lontano da qua, che forse non ha acqua, che non ha il trapianto, che non ha l'unità di cura intensiva, di fare, di accedere a delle terapie innovanti a basso costo e con una preparazione che è molto meno importante di quella che le cosiddette terapie convenzionali si fanno. Ed è vero che, dunque, questo vorrei dirvi, la tecnologia non è solo distruzione dell'ambiente, non è polluzione esclusivamente, la tecnologia è crescita, è sviluppo per tutti, basta che sappiamo portarla e distribuirla in tempo idoneo su tutta la superficie della Terra. L'altra cosa molto importante che ho sentito e che vorrei riangacciarmi agli altri è quello dell'arte. Sì, Simone ha detto, la danza è quello che mi avvicina più all'amore. Io vi dico, non c'è una cosa, un'attività umana che vi separa dalle cose, dall'amore o dai sentimenti, dall'etica. Qualsiasi cosa fate, qualsiasi cosa, qualsiasi persona volete diventare, c'è sempre posto per la creazione, per l'arte, per la libertà, per trasportare qualcosa di importante altrove, velocemente in poco tempo. L'altra cosa importante è quello che ha detto Lorella, la scuola, c'è il solo punto dove tutti possiamo diventare uguali gli uni agli altri è la scuola, i banchi di scuola, questa scuola che sta diventando sempre più povera, mal distribuita, dove le disugualianze sono sempre le più forti. E quindi se oggi ho un messaggio da lasciare ai giovani, ai meno giovani, a quelli che hanno preso il tempo di venire qua, malgrado la tecnologia, malgrado i film, malgrado l'audiovisione, noi abbiamo bisogno di incontrarci, perché solo incontrandoci possiamo avere idee, creazione, e trasporto di informazioni. E che quindi nessuna tecnologia eviterà il fatto che dobbiamo vederci, dobbiamo ispirarci mutualmente, dobbiamo cogliere da voi quello che noi non sappiamo fare. Wireless in Africa vuol dire avvertire in tempo reale donne incinte e drepanocitarie che devono prendere l'ossigeno per sopravvivere. Vuol dire che gli smartphone non servono solo per i vostri SMS, possiamo connettere persone nei posti più disparati del mondo e mandarli un messaggio secondo il livello dove sono nella loro gravidanza per avvertirli di fare un'azione che salverà la loro vita in tempo reale. Questa è tecnologia. E se con questi 15 minuti ho convinto uno o due ragazze sedute fra di voi a fare medicina, credo che questo è stato il mio più grosso contributo allo sviluppo nel mondo. Grazie. Applausi 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 Applausi